amici sportivi buongiorno oggi per la rubrica home fitness per chi non avesse dei manubri in casa propongo un circuito di allenamento con un paio di bottiglie da un litro e mezzo il circuito consiste in una serie di otto esercizi che sarebbero i seguenti traster 10 ripetizioni che sarebbe la combinazione di squat più press 10 ripetizioni bento over robe che consiste nel rematore col busto a 45 gradi 10 ripetizioni overhead lateral raises alzate laterali sopra la testa 10 ripetizioni biceps curl flessione dei bicipiti 10 ripetizioni flop press bridge distensione sopra la testa nel pavimento 10 ripetizioni crunch che sarebbero gli addominali 10 ripetizioni flow chest fly che sarebbero le croci col ponte sul pavimento 10 ripetizioni flow french press che sarebbe un tipo di distensione dei tricipiti sdraiati un pavimento 10 ripetizioni questo circuito di questo circuito fare per i principianti tre serie per chi è già allenato cinque serie di questo esercizio eseguirle otto di seguito un minuto di recupero e mezzo tra una serie e l'altra quindi ripeto un minuto e trenta secondi di recupero tra una serie e l'altra cominciamo a illustrare gli eserciti in 10 ripetizioni Grazie 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 a tutti. 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 French press. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come ho già ripetuto prima, questo circuito, fare otto esercizi di seguito per un minimo di tre serie per i principianti a un massimo di cinque serie per i più allenati. Con un minuto e mezzo di recupero fra una serie e l'altra. E con questo è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie a tutti.